Sei pronto a fare la vendita di merce più grande mai fatta? Assolutamente sì, ma questa volta non dobbiamo fallire dato che ci giochiamo 150.000 dollari E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Stef e che si giochiamo a GTA V E siamo tornati nella nostra serie sull'online Questa volta, come abbiamo appunto appena detto Cercheremo di vendere la nostra merce del SEO Sperando di non venire ammazzati come sempre dai russi Allora, voglio dire una cosa Prima, non so perché abbiamo della polizia Però voglio dire questo Che prima di iniziare questo video abbiamo litigato con un tipo per tipo a 20 minuti E sapete che ha vinto? Abbiamo vinto noi Dato che lui ha abbandonato la sessione Poteva essere una minaccia gigantesca per questa merce da vendere Ma noi ci siamo protetti, l'abbiamo ucciso talmente tante volte che è scappato via E adesso, secondo me, siamo al sicuro Dato che siamo in tre Lo spero Ti giuro che se falliamo in una sessione dove siamo io, te e un poveretto Siamo capitati in una sessione davvero vuota Quindi speriamo bene, speriamo che non si riempie nel frattempo E speriamo di riuscirsi Anche perché 150.000 dollari in merce Io direi che vanno proprio venduti Assolutamente E credo che interessino a tanti i player Volevo dirti che c'è un solo poveretto Però in questo momento sta facendo attività del SEO Quindi diciamo che è un nostro rivale È un po' un nemico perché sì, è SEO anche lui Vuoi sapere il nome del nostro nemico? Sì Electro Gun Adesso me lo scrivo qua Proprio con la penna Così non me lo dimenticherò mai Penna indelebile Perché i nemici sono per sempre I nemici sono per sempre Quindi te lo devi scrivere proprio, capito? Assolutamente Quindi Diventi tutto macchiato Se lo vedi vicino Proprio spara Come si chiama? Non lo sono già dimenticata Electro Gun È un nome molto bello Mi confondo È un po' difficile Vuoi cambiarti da Ferinicchi a Electro Gun? Sì Sì Ferinicchi a Electro Gun Bello Ti piace? Moltissimo Bellissimo Nome dell'anno Objective on Investment Limited Vendi per 145.000 dollari 10 casse Come promesso Ci siamo preparati per questo video Ve l'avevamo promesso che avremmo fatto una super vendita E quindi siamo super pronti Allora E oltretutto ci siamo preparati Anche se l'ho detto malissimo Ok Cosa figa Grazie all'aiuto dei consulini È vero È vero Quando siamo entrati ci hanno aiutato a fare tutte queste scorte di merci Quindi è stato fantastico Guarda che bel camion che dobbiamo guidare Ah ma una testa No Già Io odio guidare questi camion Ma hai pannelli solari sopra? Sì Sono pannelli solari per forza questi Bellissimo Non lo so Allora La cliente sta adottando la massima cotella Non ci ha detto dove trovarlo Ma ci ha inviato un segnale tra chi fai da seguire Buona caccia C'è un segnale che Ah Tra Che ha detto Tra chi Che E quindi Scusa dove dobbiamo andare? Non lo so Usa tra chi fai per localizzare Dobbiamo usare qualcosa che non abbiamo mai usato Ah nel telefono ce l'hai Tra chi fai Uh Bello Ok verso destra no? Si sposta Si sposta Come è possibile? Aspetta dritti Si adesso Si muove bene sto camion per essere così gigante Vero? Si l'ho notato subito anche io Aspetta dritto Molto veloce Molto figo Si A me date queste cose A me Anche perché sei andata in prima fila tu E stai spaccando macchine Che ho un senso dell'orientamento davvero pessimo A me date queste cose da seguire Cioè come faccio a capire se ci sono vicino o no? Tu vai dritta Vado dritta sempre Si Sto odiando questa cosa Tra chi fai Allora Siamo riusciti ad essere in una sessione con pochi player Si Perché ci deve capitare questo? Secondo te perché? Perché Steph e Ferinichi non possono mai essere felici Cioè io dico una missione tranquilla In cui magari chiacchieriamo un pochettino della nostra giornata Cose così Molto bella come giornata Si Vado Secondo me Io sono arrivato al mio Perché mi segna proprio qui Questo punto preciso E un punto dove io farei un incontro Quindi secondo me ce l'ho fatta Dai Si 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 Aspetta Mamma mia L'ho trovato Non sapete quanto ci sono qui Che succede a te? Mi sono ribaltato Aspetta Aspetta Ce l'ho fatta A portare la merce carico speciale al punto di consegna A me A me Ah ok Dimmi che tu t'ha posto Si ce l'ho fatta Ho fatto un altro giro su me stessa Da stai? Qui dietro Stai seguendo la stradina? Eh si Che bellina Io sono andato dritto Eh no perché ho paura delle montagne Mi fanno ribaltare Capito? Non voglio distruggere tutto Ah no aspetta Ah no aspetta Ok no c'è un consolino Mi stavano confrontare Ah ecco No io so questa Arrivo Ciao consolino Aspetta che ti invito allora M Non posso usare M Niente consolino Ti invito dopo aiuto Togliti Vai Non può essere già finita questa missione Vero? Sperdina Sarebbe troppo semplice Ok Oh issa Ok Finita Quanto ti ho dato? 150.000 dollari Ok A me 5.000 così di consolazione Però va benissimo 5.000 solo Ciao Sì ciao Ma è l'elemosina ti ha dato Ma che antipatico sto gioco Siamo tornati nel nostro ufficio Guardate quanti soldi ci sono Non so bene perché Credo siano quei 150.000 È bellissimo Ormai chiunque riconosce la nostra potenza come SEO Ci possiamo fare Abbiamo talmente tanti soldi Che li mettiamo sotto la scrivania Cioè fai così Raccogli e li lanci Guarda Ci possiamo fare il bagno lanciando i soldi Secondo me da quanti sono Sì 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 Bellissimo Nel mentre mi sto squalando il tuo whisky Come ti permetti Volevo vedere se è buona Non ti devi ubriacare Dobbiamo ancora fare delle missioni Non mi guardare male Che ti guardo male Non sei brutta come Sueco Ah no qui è bellissimo il mio personaggio Quindi non funzioni Non sei inquietante Però sono tre volte più alta di te Come è possibile Perché c'hai dei tacchi Che sono da 25 centimetri In effetti Ecco Allora che si fa adesso Dato che almeno la missione Non ho idea Non lo sai No Dicevo almeno che per una volta Che ci è andato bene Che facciamo Infatti mi ha spiazzato Va sempre tutto male È sempre tutto più lungo del previsto E stavolta è durato Quattro minuti Quindi Allora Anche nella fortuna Abbiamo sfortuna Esatto Incredibile Dovrei avere la possibilità Di vedere un attimino Il garage Tipo la possibilità Di aggiungere il garage Eh sì Quello che avevamo visto Quando l'abbiamo acquistato Esatto Se lo trovo Possiamo vedere a quanto è Perché un milione Se è pure scontato Forse ciò possiamo permettere Perché in questo momento Abbiamo Quasi 400 mila Più 500 mila Della challenge Quella Della polizia Quindi siamo messi davvero benissimo Allora Il garage No niente Costò un milione e uno E quello lì Quindi non possiamo fare nulla Però ci avete consigliato In tantissimi Di giocare Al gioco Che c'è Nella console Nella tv Del nostro ufficio Quindi adesso lo proviamo E vediamo un pochettino Io non ho idea di cosa sia In via Non so se fidarmi Allora vediamo un po' Mi preoccupa Vediamo Mi sono un gioco di lotta Un picchiaduro Mi sembra Sembra te Eh sì Sembra qualcosa Nello stile di te Che ne si intende Eh esatto No Aspetta Ok È una sorta di snake Mi aspettavo una cosa In cui ci pestavamo malissimo Smettiamola subito qua Ma sono già mezzo fregato io O posso passare almeno sopra di me Non lo so Prova No non ci provo cara Vieni qua Che poi non scompare Non scompare Tutta la nostra codina No 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 Proprio Chi prende vantaggio Prende vantaggio No Dove ripassare da qui Sì Ce la faccio Sono morto io Ero fregato poco più avanti Vai Riproviamoci Voglio la rivincita Assolutamente È entrato anche il consolino Vai Samu Vai pure tu Vai che siamo in tre Pure tu premi in via Adesso in tre Farò ancora più ridere Oh mamma mia Devo stare attento Segna pure che tu hai un punto Ma siamo pure più veloci No non mi sembra Devo difendere la mia zona Vattene Dai Mi hai rubato un sacco di zona Sono disgraziata Adesso mi vendico Io Io non sono il verde Io sono il viola E Samu Non so Attenta Mi ho fregato malissimo Ho notato Che tristezza Io faccio schifo Mi dispiace Ma sei vinto prima Contrini Eh ma è tutta fortuna Ma tu perdi il muro Cioè ma come puoi Perché voglio fare le cose all'ultimo E mi schianto malamente Faccio finta di andare addosso Poi modifico all'improvviso Passo da sopra qua Chiudilo 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 E adesso No Ma dai ma come Ok Come hai fatto Perché ti confondi Vuoi fare le cose all'ultimo Poi sbagli È un casino Un casino Facciamo l'ultima L'ultima Chi vince questo È il re di Don't cross the line Ho letto adesso che ha nome Non passare di lì Lasciami che la strada No Dovevo andare di là Non sono io Sì quella rosa sei tu E ora sì Vedi mi hai chiuso Dai ma sei Vi pari No ma Mi avete chiuso tutti Che complotto Stefan pro Stef 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 ce la fa No c'è Cara mia Cara mia Sei fregata Ok Come faccio No Non ce la potevo fare No c'è guarda Dopo questa Ok usciamo Basta usciamo Non voglio vantarmi Ma stai zitto Ma ho fatto un po' Cosa di impossibile È stata proprio una roba Improponibile Comunque grazie di averci Consigliato questo giochino È super divertente Ci sta come passatempo Molto molto carino Anche perché siamo in vacanza Tra diciamo un colpo E l'altro Stanno comparendo un sacco Di oggetti in giro Che al resto Un mitrone gigantesco Ma bello Questo è per me È il regalo per me Questo vero No assolutamente Il regalo per te è questo Vieni Cosa Vieni vieni Cosa mi vuoi dare È bello Sì Qua 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 Dove sei Qui Guarda Scegli Hai uno di questi due quadri È tutto per te Sono brutti Guarda valgono un sacco di soldi Ma non mi piace Un sacco di soldi valgono Mi sembra un sogno Secondo me c'è qualcosa che non va Te lo dico perché non può andare tutto così bene In un video di GTA Ogni volta ci amattano Probabilmente oggi Ci rubano Ci distruggono tutto E oggi invece è tutto troppo semplice Oggi probabilmente abbiamo un po' di fortuna Non so che dirti Ma sono tutti I russi sono in vacanza secondo me Anche secondo me Probabilmente hanno preso qualche giorno Non c'è altra spiegazione Vero? Sì 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 Qualche giorno di riposo Dalle rapine su GTA Oppure Quello che abbiamo Dei furti su GTA No no senti me Senti me Secondo me quello che abbiamo sconfitto all'inizio Era il boss dei russi E detto che l'abbiamo sconfitto Adesso si stanno riorganizzando Stanno cercando un nuovo boss E li abbiamo fregati alla grande Non c'è altra spiegazione Perché Ah probabile Stanno andando tutto troppo bene Allora fammi vedere un po' il pc Abbiamo Questi a livello di scorte Pochino vero? Beh questi qua 36.000 dollari Ok ok Però è meglio secondo me Rifornire ancora Sì 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 Assolutamente Però dai Non sta andando male Questo garage Lo stiamo facendo lavorare davvero Alla grande Stiamo andando bene E abbiamo fatto di nuovo Già un po' di scorte Dobbiamo continuare ovviamente Ad accumularne Ma non è questo il momento Di sicuro voglio farmi un bel tatuaggio Ho chiesto al consolino Di prestarci questo veicolo Dovete assolutamente vedere Che cos'è Allora Noi non ci siamo mai guardati Troppo le cose Dei veicoli nuovi Che hanno messo Perché non ce le volevamo spellerare Prima di tutto Tasto destro A una mitragliatrice integrata Per sparare le persone Un quad che spara Un quad che spara Guardate Anche questo lo vorrei nella realtà Vedi Eccoci Questo sarà il momento Più bello della mia vita Sei pronta? Vai dritto Sui bagnanti Dritto Dritto Cambiamo E di L'avevi visto da bambino L'ispettore gadget Sì Che ogni praticamente Veicolo che aveva Premeva un tasto Si trasformava Poteva andare in acqua Volare di tutto Questa è la stessa cosa Spalare Andare in acqua In terra C'è che vuoi di più Che meraviglia Non solo tutta la città Ma pure l'oceano Ma dai che figo Tutto e non solo veicolo È fantastico Lo voglio troppo Io non ho idea di quanto costino Questi veicoli Ma sono troppo belli E poi guarda Opla Bellissima E poi di nuovo Opla in acqua Te ne vai un po' al mare Spari un po' la persona Così giusto per divertirti È difficilissimo mirare Comunque Con seguita Ho visto Fai prima investire Poi prendi E Opla E te ne vai Dai direi che ci possiamo fermare Così per questo video Questo veicolo è davvero Troppo 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 bello Lo dobbiamo assolutamente Comprare in futuro Perché cioè È troppo figo È troppo figo Ma hanno visto davvero tantissimi C'è quello che tipo Può saltare Mezzo vola Sì sì E si apre per la caduta C'è davvero di tutto Gli ultimi aggiornamenti GTA Sono davvero fighissimi E piano piano Ci stiamo iniziando ad avvicinare Anche noi finalmente A poter fare anche quelle cose Per questo episodio Ci fermiamo così Direi che per il prossimo Dell'ufficio Farmiamo un bel po' di soldi Ok Esatto E ci compriamo il garage Così iniziamo l'esportazione Dei veicoli Sì finalmente Mi sembra anche ora Di iniziarla Esattamente Ma soprattutto Il prossimo video di GTA Che uscirà dopo questo Sarà quasi sicuramente Una nuova serie Che abbiamo pensato Sarà un po' particolare Stile quella delle challenge Cioè vogliamo creare Anche ora un'altra serie E infatti sarà Un episodio settimanale Dell'online Un episodio di questa serie E un episodio della challenge Ovviamente se vi piace questa idea Quindi Mi dispiace interromperti Non si è capito nulla No no Ci stiamo dimenticando Di una cosa importantissima No Il tatuaggio Di nuovo No Per la seconda volta Non è possibile E mentre facevi l'outro Io ridevo due ore da sola Perché dicevo Non ci credo Che ce ne siamo dimenticati Di nuovo Non è possibile Ma dai Dai lo facciamo Al prossimo episodio Anche perché non saprei Cosa potremmo fare in questo Abbiamo solo fatto Mercedere Secondo me Il motoscafo Ma non penso esista Un motoscafo Però se c'è Voglio tatuarmi un motoscafo Perché mi sono innamorato Spero che ti riesci a condividere C'è già Sentici un bel like E questa è la prima volta Che avete detto il nostro video Potete considerare l'idea Iscrivervi per non perdervi Gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao ciao Ero 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 Ero